Bella a tutti ragazze e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Painball se non sbaglio è il terzo episodio che facciamo, mi sto divertendo a giocare a questo giochino spero che anche a voi piaccia più o meno, quindi vi ringrazio già in anticipo per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che darete a questa serie se vi piace noi lo porteremo ancora avanti, ripeto io mi diverto a giocare, è carino, è carino e se avete anche dei suggerimenti per altri livelli su Roblox simpatici, scrivetelo nei commenti e se avete delle richieste d'amicizia sempre su Roblox da inviarmi, inviatemene direttamente, il nick è sempre quello Maullo941 e io non perderò tempo, appena potrò le accetterò molto volentieri, eventualmente si può anche giocare assieme questo si può anche fare detto questo ragazzi oggi siamo tornati su Big Painpool, abbiamo l'arma che abbiamo comprato l'altra volta alla fine dell'episodio siamo a 13 minuti alla fine della partita, quindi non perdiamo tempo, scendiamo in campo e distruggiamo e coloriamo un poco i nostri avversari allora, questa mappa l'abbiamo fatta l'altra volta, scorro più veloce o impressione mia? No, 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 scorro sempre alla stessa velocità allora questa mappa la conosco più o meno, c'è questa parte che dobbiamo salire sulla collina, ok, c'è una mitralietta che ci... ammazza subito, ok, ok, c'è una mitralietta messa in posizione molto strategica, quindi dobbiamo un attimino riuscire a eliminare prima quella torretta, perché è molto fastidiosa, è proprio messa lì dietro, quindi eliminiamo la torretta, perfetto e la torretta ce la siamo levata dalle scatole, ok, ora vediamo dove stanno i nostri nemici no, non iniziamo con il... come fa ad avere già il drone quello? Quante kill ha fatto? 11 kill già ha fatto 11 kill, tizio, mamma mia, siamo messi proprio male noi, allora, scusate quello già ha fatto 11 kill, noi siamo proprio messi male allora, daglie, daglie, torniamo a difenderci allora, se questo è morto qui vuol dire che c'è sta qualcuno qui che rompe le scale una torretta, ma porca miseria, l'avevo vista, l'avevo vista, mannaggia mannaggia di una pupazza ambriaca, dai, 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 11 minuto e 49 e ancora non abbiamo fatto nessuna kill se non sbaglio, non abbiamo fatto nessuna kill di qua non c'è più la torretta, andiamo, andiamo a zigzag, andiamo di qua raga, andiamo di qua vediamo se riusciamo a prendere i nostri nemici di sorpresa dove sto andando? Non lo so, sto girando in mezzo alle campagne, praticamente, è un labirinto questa mappa vediamo, ok, 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 là ce n'è una, là ce n'è una, là ce n'è una, là ce n'è una, uccidilo, uccidilo, uccidilo sì, una kill è andata raga, una kill l'abbiamo fatta, una kill l'abbiamo fatta tipo snake, raga, tipo snake, dobbiamo muoverci tipo snake, solid snake ma se raggiungo la bandierina faccio qualcosa, vinco qualcosa se raggiungo la bandierina uuuuuh, addirittura, siamo a casa loro, bellissima questo posto questo punto è bellissimo raga, non li facciamo uscire, non li facciamo uscire nooo, mi ha battuto lui, mi ha battuto l'abbattitore, neanche a farlo apposta, mi ha battuto l'abbattitore dai, dai, ritorniamo ora ci vorrà un bel po' di strada prima che torniamo, riusciamo a tornare in quel punto di là però dai, però dai, ci siamo avvicinati parecchio, non era male come situazione di attacco praticamente però va bene, occhio se ci sono delle torrette piazzate, ma non penso, perché loro erano completamente chiusi a casa allora, come sono morto, come sono morto, raga, ma qualcuno me lo spiega come sono morto ma porca miseria, cioè mi hanno sparato da sottoterra, ma io non lo capisco cioè certi colpi partono da sottoterra, altri no, va bene va bene, va bene, le stranezze dei videogiochi, raga le stranezze dei videogiochi, c'è qualcuno qui che non lo so, mi vuole sparare da sottoterra riusciamo a entrare in una zona un poco migliore per cercare di fare qualcosa allora, i nostri avversari non sono molto... dai, 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 che ti ammazzo, non ti ho ammazzato io, però va bene lo stesso vita, tanta vita alla mia compagna doppia kill, doppia kill, doppia kill, doppia kill, doppia kill, doppia kill, sì, doppia kill signori miei bella così e avanti, 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 avanti l'ho preso? Come l'ho preso? No, lo so, ma l'ho preso quello lo prendo, secondo voi? No, però prendo a lui prendo a lui, raga, stiamo a fare delle kill paurose stiamo a fare delle kill paurose bellissimo, raga, sono casatissimo l'ho preso di nuovo mamma mia, mamma mia, fantastico, raga li sto sterminando tutti, no Sono morto, chi è? Paola, Paola Ho fatto 3 kill consecutive, raga Bellissimo, bellissimo Fa bene così Allora, c'ho il radar e posso mettere la sentinella No, io aspetto, voglio il drone, raga So che non servirà nulla Il drone, praticamente, perché io faccio schifo A prescindere, anche se in quest'ultima In questa partita stiamo a fa Bene, non ci lamentiamo Stiamo a fa bene, mancano 9 minuti alla fine della partita Quest'arma è decisamente Meglio rispetto a quella che avevo io prima Mamma mia Gli riesco a colpirli Tutti velocemente, bella così Bella così, zio, 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 sei un uomo morto Sei un morto che cammina Sei un morto che cammina, te l'ho detto Che eri un morto che cammina Te l'ho detto che eri un morto che cammina E tu hai voluto sfidare il destino L'ho preso di nuovo, l'ho preso di nuovo L'ho preso di nuovo, fantastico Raga, sono un mostro, sono un killer Praticamente, sono un killer Voglio il drone, come si sblocca il drone? Ecco C Dammi il drone, bello così Ora ci divertiamo No, sono morto Ma parca miseria, avevo sbloccato il drone Ce l'ho ancora il drone? No Mi sa che ho perso il drone E vabbè, non fa nulla, non fa nulla Ci abbiamo tre radar, una torretta E devo fare nove kill per raggiungere il drone Mannaggia, se riuscivo a fare 86 kill Potevo raggiungere la bomba atomica Cioè qualcosa di impossibile Vabbè, non fa nulla Già se noi riusciamo ad ottenere Allora, stiamo calmi, stiamo calmi, stiamo calmi Addentriamoci Addentriamoci, non vedo nemici Non vedo nemici Tu mi spari? No, tu sei nostro, ok Non vedo nemici, raga Questa cosa mi preoccupa E lì dietro, lì dietro, lì dietro, lì dietro, lì dietro Ti ho visto, ti ho ammazzato Bella così Giriamo da questa parte, giriamo da questa parte Uh, sono tutti qua, sono tutti qua, sono tutti qua Fuori uno Fuori due E non c'è stata più nessuno Non c'è stata più nessuno Ok, ok, giriamo da questa parte Aggiriamoli, aggiriamoli, aggiriamoli Allora si stanno ripartendo No, li aggiriamo pesantemente No, chi è? L'uomo banana mi ha ucciso Giovi Giovi mi ha ucciso lui, mamma mia Mamma mia Dai, daglie, daglie 81 Mi mancano 81 kill, raga 81 kill per raggiungere la bomba atomica Cioè, è impossibile Però, nella vita non bisogna mai porsi degli obiettivi Nella vita non bisogna mai porsi degli obiettivi Daglie così, daglie così Ho sentito che hanno piazzato qualcosa E questa cosa non mi piace C'è un drone che vola C'è un drone che vola Bisogna far fuori quel drone Lo sapevo io, mannaggia Lo sapevo io Sono morto a casa di un drone Se loro si avvicinano alla nostra zona E siamo un po' a rischio Siamo un po' a rischio Io non so quante kill ho fatto Dopo dovremo vedere a fine partita Quante kill abbiamo fatto Perché in questo momento Sinceramente non so neanche come si faccia a vederlo Però, tu sei amica nostra? Sì, mamma mia Ho avuto paura Ho visto la torretta così subito di faccia Ho avuto paura Tu dove stai cercando di andare? No, mi ha ammazzato Mi ha ammazzato L'avevo visto prima Mannaggia Lui Siamo un attimo subendo, raga Siamo un attimo subendo Abbiamo un attimo la La pausa di kill Non riesco più a uccidere nessuno Abbiamo avuto un attimo Un successo pauroso Che abbiamo sterminato In una maniera paurosa E ora siamo un attimino fermi Su un discorso di kill Occhio, occhio Sono là, sono là, sono là Sono là, sono là E' lì, è lì, è lì No, mannaggia Crew di livello 2 Mi ha fregato lui E va bene Dai, dai Calma, 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 calma Uh, ti ho visto, ti ho visto Ti ho visto Dove stai andando? Dove stai cercando di andare? Dove stai cercando di andare? La torretta non ti tocca? La torretta non ti tocca? Dove stai cercando di andare? È salito sulla torre Eeeh, ti ho preso Nico, ti ho preso Nico mio Ti ho preso Mi hai fatto una bella kill Da lontano Devevi darmi il long shot Invece non mi ha dato nulla Tu sei un uomo morto No, sono morto io Mi hanno messo la torretta lì dietro Bastardi, sono vicino casa Raga, sono vicino casa Sono vicino casa Sono vicino casa Allora Allora, qua c'è lui che E allora, lui è morto, ok E prima l'abbiamo ucciso Allora, dovrebbero esserci delle torrette qua dietro Se non... Dove sono morto io Del... No, ma porca Ma porca Paletta Ambriaca Allora, calma Calma, calma Calma, calma Ti ho visto Ti ho visto Ti ho visto E sei un uomo morto Signori mie Sei un uomo morto che cammina Cinque minuti Cinque minuti Dai, 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 dai Ci stanno un attimino schiacciando Questa cosa non va bene Ci stanno un attimino schiacciando E questa cosa non va bene È riuscito a uccidermi Come ha fatto a uccidermi? Dai Ma porca Paletta Ambriaca Dai, 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 dai Mi mancano Tre kill per il drone Mi mancano Tre kill per il drone Ti ho visto Che sei lì Ti ho visto Che sei lì E ti venga Pia Ma qua non c'è Non c'è le torrette Guardalo dove è Guardalo dove è Guardalo dove è Sei un morto che cammina No Uno ucciso Mi ammazzo uno E muoio subito Porca miseria Porca miseria Allora Stiamo calmi Facciamo il giro largo Facciamo il giro largo Così riusciamo a evitare Che loro possano È lì È lì Hanno messo una torretta Bastardi Ok Una No Alex Mannaggia Volevo distruggere Le torrette E mi ha ammazzato Alex Ci sono dei poli Dei colpi Dei proiettili Che volano Ok Lui è morto Sei riuscito a ammazzare Anche l'altro Occhio che c'è la torretta Occhio che c'è la torretta Raga Occhio che qua C'è sta la torretta Ah no È finita Tutte e due le torrette Distrutte Ottimo Ottimo Allora andiamo All'attacco Raga No 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 Non l'avevo vista La seconda torretta Mannaggia Allora Mannaggia Allora Tre minuti Tre minuti Dai 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 Io vedo dei proiettili Che volano Dai Dai No Porca Dai Dai Torna in vita Torna in vita Torna in vita Dai 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 Oh È là È là Ti ho visto Ti ho visto Ti ho visto Ti ho visto L'ha ucciso qualcuno Forse Sì Forse Quella lì L'ha ucciso L'ha ucciso Il nostro Quello che stava Si stava avvicinando Ok Lì è morto Ok Lì dietro Ci sono le torrette Le torrette Babaloniche No Dai Ma porca miseria L'avevo presa Quella torretta Dai Dai Due minuti e cinquantotto Non riesco più a fare una kill Raga Stiamo morendo pesantemente Dalle torrette loro Dalle torrette loro Stai se non va bene Avevamo Ma tu sei con me o contro Tu sei contro Però c'è un tizio Che se ne sta andando Sta andando Dove non dovrebbe andare E infatti Bella kill Questa mi è piaciuta Questa kill mi è piaciuta Allora qui ci sono le torrette Ok Una è andata Ok Andate tutte e due Vedo dei colpi Partire male No Sta Porca di quella miseria Mi ha fregato E va bene Dai 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 Due minuti e ventitré Due minuti e ventitré Due minuti e ventitré Dai 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 Io vedo sempre dei colpi blu Che però Dove ne dobbiamo stare attenti Perché loro Arriveranno qui E metteranno le torrette Sicuro 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 Che ci aveva ucciso prima Questo un po' Sììììììì Sì mìììììììììììììììììììo Bella così Bravi miei compagni Bravi miei compagni Tu sei un uomo morto che cammina Anche Nooo Lui mi ha ammazzato Mannaggia Abbiamo fatto 2 kill Però va bene Abbiamo il drone Ottimo Abbiamo messo il drone Speriamo che sia Che sia Un buon qualcosa Dai drone mio Vai tu in avanza scoperta Vai tu in avanza scoperta drone E farli tutti fuori Spettacolo No porca miseria Abbiamo ucciso uno col drone E siamo morti di nuovo noi Ma porca miseria Quanto manca? Un minuto e 13 Un minuto e 13 E non so Mi dispiace che non riesco a vedere Quante kill facciamo in totale Praticamente Però va bene Allora facciamo un giro largo Facciamo un giro largo Dai 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 Occhio alle torrette piazzate Quel tizio è morto Grandi I miei compagni di squadra Sono mitici comunque Quella torretta amica mia No C'è nuovamente l'uomo col pappagallo Che paranoia L'uomo col pappagallo è insopportabile Dai 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 Devo prendermi la vendetta Sull'uomo col pappagallo Chi è? Qualcuno è salito là sopra? No ma quello è verde Amico nostro Che cosa spaglia l'amico nostro? Ma porca Quella torretta va distrutta Ok Buono così Questa torretta è stata distrutta L'uomo col pappagallo Sì Non l'ho ucciso io Sì l'ho ucciso io L'uomo col pappagallo Vendetta fatta raga Vendetta fatta E un'altra kill Bella così Bella così Dai così Tu sei da distruggere Oh no Già porca miseria Finita? Siamo saliti al livello 4 Bella così 3000 euro 9 secondi Dai riusciamo a rientrare Dai che riusciamo a rientrare 6 secondi 5 secondi 4 secondi 3 secondi 2 1 E finita Finita così raga Vediamo quante kill abbiamo fatto Abbiamo fatto 26 kill Dai Siamo 1 2 3 4 5 Siamo arrivati 50 Dai andate bene Andate bene Va bene ragazzoli Detto questo Vi ringrazio per aver partito A questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Che darete alla serie Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao Ciao